Mi trovo a Casa Evelino Scalo, località Ponte, presso Picnic nella foresta, parinoteca aperta lo scorso agosto. Sto per incontrare lo chef Franco Marino, il quale ci racconterà questa sua avventura in questa nuova stagione di un noto programma di una tv nazionale che è la prova del cuoco. Allora, innanzitutto volevo ringraziarti per questa intervista e ringraziare la prova del cuoco, Elisa Soardi che è la padrona di casa, che è una persona veramente squisita e ci fa sentire sempre a proprio agio, quindi la ringrazio anche, ho ringraziato in diretta per avermi invitato e per me è sempre un onore cucinare in quelle cucine lì, perché è un programma che seguivo dall'inizio quando ero piccolo, stavo alle prime armi anche in questo lavoro, quindi è stato anche uno stimolo per me continuare a fare questo lavoro e fare questo lavoro grazie anche alla prova del cuoco, quindi è un sogno che si è realizzato e quindi sono felicissimo. Ringrazio tutto quanto lo staff, dal primo all'ultimo, sono persone veramente che ti sostengono, ti aiutano, perché ci sono tante cose dietro le quinte, tante persone che lavorano, che magari da casa non si vedono, quindi sono veramente persone eccezionali. Quindi è stato per me molto molto emozionante, ogni volta è molto molto bello. Ha invitato la bellissima e bravissima Elisa Isoardi a venire qui nel Cilento, allora quando ce la porterai? Dillo Elisa perché la aspettiamo. Elisa ama il Cilento e devo dire che ogni volta che io sono lì, lei con molto piacere nomina Pestum e tutto il Cilento, quindi sono orgoglioso di questo e sono felicissimo che anche Elisa piace molto il Cilento, quindi magari un giorno ci farà questa sorpresa.